bene puntata ricca anche con collegamenti internazionali però quello che ci preme di più da cittadini è parlare della situazione dei cittadini allora prima lucia ci ha raccontato brevemente la sua storia però io chiedo scusa lucia se entriamo nella privacy della sua casa lucia io le chiederei di farci capire visivamente di cosa stiamo parlando anche perché chi è deputato certo se vuole descrivere un attimo la situazione la quale vi trovate allora la situazione purtroppo è drastica e abbiamo tutto l'impianto idraulico da cambiare se le mostro i lavandini funzionano con i secchi bisogna mettere secchio sotto perché tutto lo scarico è rotto anche nel water non c'è lo ne bisogna mettere l'acqua con il secchio se guardate per far venire l'acqua calda bisogna metterci per forza sotto bisogna appoggiare un vaso qualcosa una bottiglia purché l'acqua fredda praticamente sia chiusa in modo che viene un po di acqua calda nel bagno piccolo idem non c'è se guardate non c'è neanche lo sciacquone praticamente solo con il secchio buttiamo l'acqua solo con il secchio non ce lo sciacquone la caldaia se vi mostro praticamente mi mostro subito funziona mettendo sotto il vaso anche qua perché espande acqua tutto il giorno ci ha fatto la muffa per tutta la cucina tutto sotto la cucina è un disastro caldaia è tutta malfunzionante voi mi dice che avete fatto anche delle scelte coraggiose perché siete tanti in famiglia avete tanti figli contrariamente quello che diceva rosato che non si fanno più figli voi invece avete fatto questa scelta di averne se noi abbiamo otto bambini siamo due adulti purtroppo lo spazio è poco perché ci sono tre camere però essendo otto bambini ci sono c'è una due camere singole che purtroppo le abbiamo fatte matrimoniali mettendo un divano letto che diventa matrimoniale perché il divano il letto matrimoniale non ci sta altrimenti non ci passiamo tutto al giorno questo diventa matrimoniale qui ci dormono le due figlie maggiori con il nipote cioè il bambino della figlia che ha 16 anni ho capito poi nella camera singola sempre di mio marito l'abbiamo fatta matrimoniale non c'è lo spazio neanche per camminare se guardate c'è proprio c'è lo spazio di una gamba e qui si dorme il mio compagno si entriamo di traverso bravissimo qui dorme il mio marito con i due maschietti nell'ultima matrimoniale ci dormo io con gli altri tre figli però in quattro in un letto a volte sono obbligata a mettere il bambino di quattro mesi nel passeggino perché purtroppo ha letto con me non ci sta abbiamo uno spazio pieno di muffa mi faccia capire questa situazione io mi auguro ovviamente che qualcuno dell'amministrazione si prenda carico anche dopo le segnalazioni che ha fatto la stampa che stiamo facendo noi però mi faccio capire una cosa che a me preoccupa siete tanti se sua figlia c'è un figlio a sua volta e ma se non avete entrato come state facendo avete qualcuno che vi aiuta allora io vivo praticamente con il reto di cittadinanza e il bonus bebè del bambino che è appena nato il mio compagno lavora con il papà che è titolare di partita iva fortunatamente riesce a portare a casa qualcosa a fine mese però riusciamo a far fronte sia al mangiare alle bollette ma non riusciamo a far fronte per quanto riguarda le spese per l'impianto idraulico per la caldaia per i termosifoni su quello non riusciamo a far fronte chiediamo aiuto a insula appunto visto che siamo in gradatore definitiva di poter assegnarci questo alloggio sicuramente più grande almeno con quattro camere come diceva il direttore di insula perché già ci ho parlato però diceva che non sa quanto ci vorrà per assegnarcelo e qui ritorniamo al famoso discorso della burocrazia che quella che in realtà in italia molto spesso fa sì che le cose che dovrebbero accadere non accadano io lo dico sorridendo ma è un riso amaro il mio ovviamente perché poi ci sono casi come il suo dove chi ne paga le conseguenze non sa che pesce pigliare allora le chiedo lucia di rimanere ancora un attimo con noi perché io vorrei mandare un'intervista di una situazione che non è ovviamente grave come la vostra ma è uno spaccato di crisi che si potrebbero prorogare nel tempo e quindi generare nuove situazioni di crisi cioè il famoso cane che si morde la coda e qui laura ha fatto un'intervista a un operatore del settore ristorativo bar ristorazione che è effettivamente in crisi vediamo un attimo questa intervista vista di tutti questi adattamenti che ti sei trovato a fare quando ti è costato vi è costato e in che termini e poi secondo te a questo punto quali sono le prospettive future allora il termine adattamento è un termine che rispetto a questa situazione rappresenta due facce no la faccia della dell'essere necessario perché bisogna adattarsi a una realtà nuova e farlo in modo rapido e in modo sicuro da un altro punto di vista è un termine pericoloso lo dico perché dal punto di vista lavorativo personale è un punto è una necessità quella di prevedere un adattamento di predisporre delle misure all'interno dei propri locali che permettano al cliente di poter venire in sicurezza e senza pensieri cercando di potersi godere un momento di tranquillità però dal punto di vista personale come cittadino il termine adattarsi può essere pericoloso perché vorrebbe dire convivere a lungo con una situazione come questa soprattutto e ne stiamo parlando in un momento in cui il ciclo di restrizioni è più severo è più rigoroso e quindi adattarsi come cittadino non mi piacerebbe tanto dirlo perché appunto anche psicologicamente mi darebbe l'idea di una lunga permanenza in questa situazione per quanto riguarda il livello lavorativo che bisogna adattarsi questo ha delle dei costi come sono stati quelli tutti affrontati per reperire le documentazioni come protocolli covid oppure fare le le igienizzazioni per quanto riguarda appunto il materiale sono tutte cose che appunto diciamo sono nell'ordine delle cose di una situazione come questa ogni imprenditore che sia nel campo della ristorazione come in qualsiasi altri campi deve adattare il proprio luogo di lavoro alle condizioni che ci sono per permettere al personale e alla clientela nel nostro caso di lavorare e poter usufruire dei luoghi in totale sicurezza questa è una cosa necessaria che non è un adattamento diciamo impegnativo va fatto va fatto con celerità per appunto permettere che tutte le cose finiscano il più presto possibile però per quanto riguarda l'adattarsi come cittadino al ciclo di restrizione eccetera è pericoloso è pericoloso allora questa disquisizione di filippo sul termine adattarsi è una disquisizione abbastanza importante ora qui vengo alla finalità della nostra trasmissione che l'editore ci ha concesso di realizzare c'è una trasmissione come dicevo fatta dai cittadini nell'interesse dei cittadini io sono un cittadino non sono un giornalista sono un conduttore che casualmente si trova a interpretare quelli che possono essere i malesseri o dare delle informazioni ora il dubbio che noi abbiamo che ci assale come cittadini quotidianamente che purtroppo questo adattamento che ci sta chiedendo il covid effettivamente poi diventi un adattamento a tutto ma io lo ricordo noi siamo cittadini di uno stato di diritto il che vuol dire che noi abbiamo dei diritti in quanto cittadini ne facciamo parte lo costituiamo noi siamo la società noi siamo lo stato lo ricordiamo perché talvolta ci confondiamo con l'uso delle parole noi siamo lo stato noi cittadini e allora lucia le chiedo una cortesia lei ha idea di altre situazioni come la vostra cioè quanto è grave la situazione in questo momento è abbastanza grave si di situazioni come la mia ne conosco altre ad esempio mia cognata vive in un appartamento sempre insula a marghera con una camera sola e sono in cinque no 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 non è solo un problema isolato non è un problema che sta sta camminando dappertutto ecco purtroppo anche lei in casa si è trovata addirittura i topi una settimana fa anche lei in bagno anche le funzionano poco lo scaldabagno proprio non funziona e anche lei di fatti è in una situazione molto precaria lei disoccupata e suo marito lavora praticamente a tempo determinato però percepisce poco proprio giusto per vivere ecco va bene allora signor lucia melis intanto grazie di aver partecipato io spero che grazie a voi in qualche modo e questo programma possano esserle di aiuto perché chi è responsabile si responsabilizzi e vi aiuti a trovare una soluzione mi dispiace le chiedo scusa se siamo entrati in casa sua però mi è parso opportuno chiederglielo per far comprendere a chi non si preoccupi anzi ho chiesto io aiuto perché purtroppo così non si può vivere perfetto allora grazie ancora di essere stati con noi noi ci accingiamo a chiudere la trasmissione odierna e e chiuderei direttamente con questo ultimo contributo filmato che parla di quanto sta aumentando il numero di poveri ovvero di povertà assoluta in italia lo lasciamo come copertina di chiusura io ringrazio tutta la redazione che come sempre mi ha aiutato a realizzare questa trasmissione gli ospiti che sono intervenuti matteo alla regia e ricordo voi cittadini che avete sia il whatsapp che la mail per mandarci le vostre segnalazioni noi siamo qui per voi via il contributo filmato noi ci vediamo la prossima settimana la spesa media delle famiglie è tornata indietro di 20 anni e l'anno scorso un altro milione di persone si è aggiunto alla lunga lista di chi vive in povertà assoluta sono alcuni dei dati dell'anno terribile 2020 per l'economia diffusi dall'istat secondo le stime preliminari dell'istituto nazionale di statistica sono 5,6 milioni le persone in povertà assoluta in italia l'incremento è maggiore nel nord ma il mezzogiorno resta l'area dove è più elevata coinvolgendo il 9,3 per cento delle famiglie aumento della povertà assoluta si inquadra nel contesto di un calo record della spesa per consumi delle famiglie su cui si basa l'indicatore di povertà secondo le stime preliminari infatti nel 2020 la spesa media mensile è tornata ai livelli del 2000 2328 euro meno 9,1 per cento rispetto al 2019 rimangono stabili solo le spese alimentari e quelle per l'abitazione mentre diminuiscono drasticamente quelle per tutti gli altri beni e servizi ad impattare su tutto è stata l'emergenza pandemica nel corso del 2020 infatti le spese per consumi hanno seguito un andamento condizionato dalle restrizioni imposte dalle misure di contrasto alla pandemia via via introdotte ad essere penalizzate dalla crisi sono state tutte le famiglie ma in modo particolare quelle con figli e quelle numerose con almeno cinque persone